La steglia di Giuseppe funziona, in queste steglie capita che non funzionano, e quando non funzionano è o perché si morono, o perché un granello di polvere è inceppa, o perché si consumano, o perché semplicemente è arrivato il momento di Giuseppe, il momento di morire, di partire. L'uomo, non riuscendo a morire la morte, ha semplicemente il momento di morire. Ho deciso di non parlarne. Filosofo, no, Pascal, matematico. L'uomo, non riuscendo a morire la morte. L'uomo, non riuscendo a morire la morte. L'uomo, non riuscendo a morire la morte. Grazie. 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 Grazie.